Hola, ciao a tutti ragazzi Io sono Beatrice del PS Bentornati in questo nuovo video Sì, nuovo video perché scusate se non li ho pubblicati però cioè sì non li ho pubblicati perché non ho potuto farli perché ero andata a fare colazione con mia nonna e mia mamma in piscina per tutto il giorno colazione appunto per qualche minuto qualche ora e comunque mi sono fatta male al piede quindi ho tempo per le medicazioni adesso faccio del graffio se scusate la musica non mi stesse riferendo guardate questa usciva un sacco di sangue mi stesse riferendo mi stesse riferendo mi stesse riferendo mi stesse riferendo comunque non lo so come mi sono graffiato però devo mangiare i suoi le raccomando di oggi faccio leggere tutta la casa nel video e la specie che ho io ma questa bacchetta ci mi ha rotto cominciamo quindi via ok aspettate che l'ho aprendo ora l'aprendo e tutta questa la giudiamo questa qui ha la casa più grande che c'era lì la palestra aspettate che si fa tutti gli manifesti non è facile con la mano vabbè comunque faccio vedere qua c'è l'ingresso lì dietro c'è un gioco che c'era saltano gli ossi forse è molto meglio di stare forse è il gioco qui che è un po' zido la ruota con dietro la novella il divanetto tutta questa ancora non l'ho tirata comunque ho fatto anche la doccia che aveva messa qui sotto c'era di già ma io ho voluto metterla più grande comunque si mette così lei non l'avete ancora mai vista con i miei video eccola lì la metterla così non puoi scegliere qua no in reale però io vi saluto scusate se durano poco i miei video ma l'ho già spiegato perchè ho poco spazio e non posso cancellare niente perchè è la scheda proprio ciao io vi saluto ciao ciao ciao